All'inizio degli anni 90, in una ricerca d'archivio all'Archivio di Stato di Bologna, era stato trovato un documento datato 2 ottobre 1609. Era un'istanza con la quale i fratelli Morelli chiedevano che trovandosi il guasto dove era già la Rocca Grande e attorno a lei era venuto un ricettacolo d'immondissie e pardissi, pieno d'ortiche e altre sorte d'erbaioni di molta bruttessa. Quindi chiedeva la concessione dell'area del guasto per costruire case, botteghe e, come scrive lui, magaggini. Allegato alla istanza c'era uno schisso che illustra la situazione del guasto. Come si vede, il fossato era molto ampio e invadeva parte dell'attuale strada davanti al comune e quindi per andare dall'attuale via Manzoni a via Ugo Bassi bisognava passare attraverso la piazza. Dallo schisso sembrano ancora presenti le fondazioni della cortina muraria della Rocca con la sporgenza per il ponte elevatoio e una torretta a difesa dell'entrata verso la piazza. Nella richiesta i morelli si impegnavano a costruire la strada di piazza aliano che traversa la piazza, sebbene con molta loro spesa convenendoli fondare sulle fosse già molte profonde. Infatti la strada doveva passare sul riempimento del fossato. Tutto ciò risulta meglio illustrato nell'ulteriore schisso di progetto allegato alla richiesta. Dal disegno sembra si voglia ripristinare la via di mezzo tra est e ovest. La richiesta dei morelli alla fine viene accolta mantenendo comunque la proprietà pubblica dell'area. Quindi le tracce della Rocca Grande furono coperte dall'edificio Morelli che effettivamente fu costruito e sostituito a metà del 1800 dall'attuale residenza municipale. All'inizio del 1600 la Rocca Grande era un mucchio di pardisso coperta da erbaioni. Ma quando è che fu abbandonata e poi demolita? Qui ci aiuti il Cavassa che scrive che nel 1540 nel nostro castello furono rovesciate le mura della torre piccola quadrata che era in mezzo alla piazza del castello della quale se ne vedono anche le vestigia e i fondamenti. Sempre il Cavassa scrive che nel 1543 il Senato bolognese, dato che erano diventati inutili, come scrive, le spese delle fortesse del contato, fece ricorso al Papa per averne la facoltà di poterle demolire. Il Papa riconobbe giusto l'esposto e quindi accordò la grazia. In seguito il Senato deputò Carlo Antonio Fantussi ed il Bianchini in compagnia degli due guastatori Giovanni e Leonardo Muratori da Piacenza e, visitata la Rocca, fu designata la estensione quantità e qualità del lavoro. In appresso fu convenuto nel dì 11 aprile la obbligazione dei medesimi per il rogito. Ma perché erano diventati inutili le rispese di mantenimento delle fortesse? Erano ormai passati 40 anni da quando Papa Giulio II, con la presa di Castel San Pietro l'11 novembre 1506, aveva annesso in modo definitivo Bologna allo Stato Pontificio. Sappiamo quando fu fatto l'appalto per la demolizione, ma quando è che fu costruita la Rocca? Il Cavazzo non lo scrive, e forse non lo sa. Riporta solo alla descrizione fatta dal cardinale anglico, legato e vicaria del Papa, nella sua Descripcio Civitatis Bologna e Iusque Comitatus del 1371, che, riferendo del Castrum Sancti Petri, scrive Castrum Sancti Petri è sulla strada diritta andando da Bologna a Imola, ed isse da Bologna 13 miglia e da Imola e 7 miglia, ed è un grande castello forte, ben murato, con fosse e rive e ben abitato. In esso c'è una porta con una buona torre, sopra detta porta, per la quale si entra e si esce da detto castello. Inoltre, in detto castello c'è una Rocca che ha ingresso e uscita, ben murata, con una forte torre, con buone fosse e ben munita, nella quale Rocca risiede un castellano con 12 compagni. Quindi nel 1371 evidentemente la Rocca Grande c'era e c'era anche il castellano. Noi abbiamo saputo comunque, quando fu effettivamente decisa la sua costruzione, da una ricerca della dottoressa Marinella Zanarini, che sempre nell'archivio di Stato di Bologna, ha trovato un documento che dice che il 18 agosto 1322 il comune di Bologna, per timore di un ritorno dei fuoriusciti della fassione dei pepoli, che era stata cacciata l'anno prima dalla città e che aveva tentato inutilmente però di rientrare e quindi il comune si era preso paura e aveva deciso di rafforzare le sue difese e tra gli altri interventi, tutte le difese del contatto evidentemente, e tra gli altri interventi decise di costruire un fortilissimo. Quindi il 18 agosto 1322 decide di costruire in Castro Santi Petri il loco ordinato ed ad portam bononiense a latero sero, cioè verso ovest, e ordinò anche di usare le lapides et lignamina domus et tornis di proprietà dei pepoli e dei loro sostenitori. E in effetti da un documento successivo sappiamo che ci fu un reclamo, cioè dei signori che avevano in affitto alcune di queste case e chiedevano il rimborso perché gliele avevano demolite e loro all'affitto ai pepoli l'avevano già pagato, infatti furono rimborsati. Quindi il 1322 può essere considerato sicuramente l'anno in cui iniziò la costruzione della Rocca Grande. Le carte del Morelli riportano solo un semplice schisso, ma ci danno per la prima volta una localizzazione abbastanza precisa del sito della Rocca Grande. Nel 1994, in occasione di alcuni lavori fatti in piazza per una fognatura, viene fatto un sondaggio davanti al palazzo comunale. Viene individuato il muro di contenimento del fossato dalla parte verso la piazza fino all'angolo nord-est. La sua lunghezza risulterà di circa 62 metri. Viene individuato il muro di contenimento del fossato e si trova anche la sporgenza per l'appoggio esterno del ponte elevatoio e le fondazioni della torretta di difesa verso la piazza. Se si tiene conto del dioschisso del Morelli, dei resti individuati di fronte all'edificio comunale nelle sue cantine, questa che rappresentiamo potrebbe essere una ricostruzione dell'aspetto della Rocca. Sicuramente è abbastanza affidabile per la parte verso la piazza. Invece, verso l'esterno, recenti scavi hanno mostrato la presenza di un baluardo rotondo. Nel proseguio dei lavori si fanno alcuni altri sondaggi. Nella zona davanti al campanile del crocifisso sono stati trovati alcuni tratti di muri, così pure in altre zone della piazza. Sono poi stati trovati alcuni tratti di selciato stradale davanti al comune attraverso la piazza. Queste strutture muerarie sono databili tra il XIII e il XIV secolo, cioè i primi secoli di vita del castello. Chiaramente l'area dell'attuale piazza non era vuota, ma occupata da edifici e attraversata da una strada allineata con l'attuale piazza Quaderni, l'antica Via di Mezzo. A seguito di questi ritrovamenti, l'amministrazione comunale, in previsione della ripavimentazione della piazza, decide di procedere a fare effettuare scavi archeologici in tutta l'area. Lo scavo interesserà quasi tutta l'area della piazza d'esclusione dell'angolo nord-ovest. Quello che si trova è un grande isolato, compreso tra la strada maggiore, la via di Portagliana e la via di Mezzo. Dallo scavo stratigrafico e dai materiali trovati sono state individuate due fasi. La prima dalla seconda metà del 1250 al 1300, la seconda dal 1300 al 1350, che termina quando, per esigenze militari, viene creato uno spazio libero di fronte alla Rocca Grande. Le fasi sono state individuate dalle stratificazioni delle superfici d'uso, che sono in gran parte in terra battuta, e dalle sottomurature o dalle spogliazioni. Sono stati individuati tre tipi di edifici. L'edificio A, di fronte al torrino dell'orologio e dal campanile, di cui alcuni muri erano stati scoperti nei precedenti sondaggi, la sua destinazione doveva essere a servizi, magazzino e o stalle. L'edificio B, dalla parte opposta della strada di Mezzo, in angolo con la via maggiore, composto da tre moduli uguali, destinato a residenza e botteghe. Infine, l'edificio C, nella parte di sopra della Madonna, crea una costruzione più povera, senza fondazioni in laterissi, completamente in legno. Questa è una possibile ricostruzione degli edifici nella prima fase. Le strutture portanti dell'alzato dovevano essere in legno e gli edifici ad un solo piano. Il coperto era molto probabilmente in paglia, come succedeva nella generalità dei casi in questo tempo. In questa prima fase del popolamento del castello, poche erano le case cupate, cioè coperte con i coppi e perciò notate negli estimi. Nel 1300 le costruzioni subiscono diverse ristrutturazioni che lasciano molte più tracce. Sicuramente ora ci sono secondo i piani, dimostrati dalla presenza di vanni scale e dal rafforzamento delle fondazioni. Dove prima erano in legno, ora sono in pietrame o laterissi. Si nota, lungo la via di mezzo, una lunga fila di basoli di trachite, posti alla distanza di un passo, come un marciapiede, come per evitare il fango della strada. Esaminando ora nel dettaglio quello che resta dell'edificio principale, si vede che i locali ora sono più suddivisi. Ci sono tre vanni stretti che dovrebbero essere vanni scala e quindi si può ragionevolmente supporre la presenza dei piani superiori. Si nota pure la presenza di numerosi basamenti in laterissi e pietri naturali, selenite arenaria, posto all'interno dei tre mesi divisori, che servono come base delle strutture portanti interne, ancora in gran parte in legno. La distribuzione dell'edificio è organizzata attorno a un cortile al centro. Di fianco, a sinistra, verso la strada di mezzo, c'è quello che sembra la parte residenziale. In quello che poteva essere il soggiorno c'è rimasta una parte del pavimento e le tracce di un cammino. Nelle altre parti ci sono ambienti di servizio. Questi sono col pavimento in terra battuta. Ci sono due focolari, fatti con mattoni posati a terra. Attorno c'è la terra con i segni provocati da un calore prolungato. Nell'ambiente più grande c'è uno strano basamento in mattoni che è stato interpretato come la base di un cecchiaio in legno. Infine, un terzo ambiente fronteggiante la via maggiore dovrebbe essere un laboratorio artigianale, con la presenza di basamenti in ciottoli atto a sostenere incudini o altri apparecchi pesanti come presse o magli. Potrebbe essere la bottega di un fabbro. Questa è la possibile ricostruzione dei fabbricati della fase 2. Nello spaccato si vede il cammino nella sala pavimentata, il cortile e la bottega artigiana senza piano superiore, mancando un vano scale. La zona davanti al crocefisso dove è stato indicato un mercato è una zona in cui non sono state trovate fondazioni di alcun tipo, quindi doveva essere un'area libera. I materiali trovati sono vari, come può avvenire in una zona abitata per molti decenni. Come al solito ci sono state trovate varie monete, una trentina tra le quali anche una moneta romana. Tra quelle leggibili, sedici sono della zecca di Bologna datate tra il 1191 e il 1336. Il 1191 è la data di inizio della zecca bolognese, quando l'imperatore Enrico VI concesse al comune il privilegio di battere moneta. La moneta assumse ben presto la denominazione di Bolognino. Era una moneta di argento del peso di poco meno di un gramma. Quelle in piazza erano molto rovinate. Quella rappresentata qui viene da un museo. E sul lato dritto ha sul cerchio la scritta Enricus e al centro l'acronimo IPRT, cioè Imperator, che è appunto chi ha concesso il privilegio. Al rovessio compare nel cerchio la scritta Bononi e la A finale è collocata al centro. La zecca bolognese sarà attiva fino al 1861. La ceramica da fuoco è rappresentata da tegami ancora in uso fino a poco tempo fa, come i testi per le piadine. C'è però un tegame tipico dell'epoca, il catino coperchio. Serviva per la cottura casalinga del pane. Residuo di tempi ancora più antichi sono i frammenti di pentole di pietro all'are. È una pietra naturale di origine alpina, molto usata nell'alto medioevo, ma nell'epoca che consideriamo era ormai soppiantata dal metallo o dalla ceramica da fuoco. Altri oggetti riguardanti la cucina sono diversi coltelli, una lunetta, i resti di una forchetta. C'è pure una piccola brocca in ceramica invetriata alta circa 20 centimetri, probabilmente era un'ogliera. Dato l'abbondante uso del legno nella costruzione abbondano chiodi di tutte le dimensioni e vari perni per porte e infissi, diverse chiavi e i resti di una serratura. Lo scavo ha permesso di recuperare un numero abbastanza consistente di armi da lancio. I materiali raccolti sono prevalentemente dardi per balestra. Mancano armi di dimensioni maggiore, con l'eccezione rappresentata da un giavellotto. Il pezzo risulta pesantemente corroso, ma riconoscibile sostanzialmente nella sua forma. Caratteristica della seconda fase è la presenza della maiolica arcaica. Si tratta di una ceramica smaltata, realizzata ricoprendo il pezzo già cotto con una vernice a base di ossido di stagno che creava una superficie bianca e lucida. Quindi veniva decorata con motivi neri e verdi azzurreo, con ossido di grame e manganese. In maioli carcaita si eseguivano prevalentemente boccali, di cui qui si mostrano alcuni dei resti trovati. Sono stati trovati anche questi frammenti di piatti chiamati catini. Anche una parte del fossato viene scavata e si trova il rusco depositato dal 1500 dai castellani. I pezzi sono decorati sia con motivi geometrizzanti, in stile detto gotico floreale, come con soggetti di tipo rinascimentale. Numerose sono anche le maioliche alla porcellana, motivi ble, e quelle a fondo berettino in smalto azzurro con decori a festoni vegetali. Ceramica ingobbiata, ricoperta cioè da una pellicola di terra bianca e successivamente decorata. Una parte di questi manufatti sono decorati a graffito con motivi geometrici, stemmi, animali e ritratti di persone. Nella seconda metà del 1500 anche a Castel San Pietro doveva esistere una manifattura di questi prodotti. Due parole su un piccolo ritrovamento fatto al margine di via Matteotti. Si tratta della porzione di un fondo di capanna di età neolitica, V-IV millennio a.C. Sono stati rinvenuti una decina di piccoli frammenti di pareti di vasi di impasto grossolano e alcune lame di selce alpina. L'area era evidentemente frequentata anche in epoca molto antica. Questa area alta e sovrastante il Sillaro è sempre stata evidentemente molto appetibile.